Spazio all'approfondimento qui su Radio Sound Piacenza 24, come anticipato torniamo a parlare della web radio Onde Corte nata all'Istituto Comprensivo Terre del Magnifico e lo facciamo di corte maggiore ovviamente lo facciamo con l'ideatrice di questo bel progetto Paola Rangognini, buongiorno e benvenuta su Radio Sound Buongiorno a voi Buongiorno, ma che piacere, vabbè ovviamente la domanda, la primissima è come ha fatto a venirle questa idea o a venirti, insomma dai diamoci del tu, a venirti questa idea di creare una web radio Onde Corte si chiama per l'Istituto Comprensivo Terre del Magnifico di Corte Maggiore Allora, tutto è perdito lo scorso anno scolastico in periodo pre-pandemia insieme a una collega di sostegno che era anche la nostra referente di istituto per il sostegno gli hanno detto che bello sarebbe poter aprire una web radio nella nostra scuola nessuna delle due era in grado, volevamo iscriverci a un corso, purtroppo non è mai partito durante l'estate però mi sono un po' messa al lavoro su questa cosa perché mi frullava in testa da allora e poi sono riuscita a farlo partire, ho presentato il progetto al dirigente il dirigente lo ha appoggiato, forse perché ha un passato di DJ e mi ha detto, mi ha confidato quindi ha subito appoggiato la cosa e questo è importante perché l'appoggio dei dirigenti purtroppo è fondamentale con queste novità, insomma sono delle attività che effettivamente portano la scuola ad andare un po' fuori dai canoni soliti Beh ma questo è bello in effetti andare un po' fuori dai soliti canoni e come l'hanno presa i ragazzi quando è partito questo progetto? Allora tenendo conto che questo progetto coinvolge la scuola primaria di corte maggiore e anche la secondaria di Castelvetro perché siamo classi pilota vediamo come va e poi apriamo la strada anche alle altre classi che adesso piano piano si stanno aggiungendo i miei alunni che sono di quarto elementare, io li definisco delle prime donne perché amano moltissimo mettersi in mostra, sono stati dei grandi, l'hanno accettata subito volentierissimo anzi hanno proposte, ogni tanto li devo anche bloccare perché veramente sono delle fucine di idee Beh questo è molto bello, noi abbiamo avuto in onda DJ Joe, anzi DJ SPQR Sì, che ha una bella parlantina insomma, secondo me Batte la maestra, batte la maestra alla grande, è molto più bravo di me No no, bravissimo infatti, bello, randio onde corte che si può ascoltare ovviamente online basta andare sul sito dell'Istituto Comprensivo, c'è il link quindi ogni tanto vengono caricate, diciamo così, dei file sotto forma di podcast Esatto, sono praticamente delle vere trasmissioni radio che durano circa una mezz'oretta ci sono podcast e tra un podcast e l'altro brani musicali che purtroppo sono, dico purtroppo per fortuna sono free ma quindi non delle ultime novità però comunque facilmente ascoltabili sono carini o qualsiasi Beh certo, guarda Paola, noi facendo radio sappiamo che dietro c'è un sacco di lavoro quindi posso intuire quanto lavoro c'è dietro radio onde corte Sì, anche più di una persona ci lavora infatti Ti volevo giusto chiedere, immagino che non sarai sola a controllare e fare tutto magari vogliamo citare anche le altre persone Certo, allora, prima di tutto le colleghe in genere che riescono nelle loro discipline a portare i contenuti per il podcast e questo è già tantissimo quindi gli insegnanti di italiano, quella di matematica insomma che portano questi contenuti interessanti su cui creare proprio vari episodi di podcast e poi naturalmente ho il collega Mito, Jacopo Vitelli che si occupa dei social perché è anche social la nostra radio per cui lui si occupa benissimo come un esperto secondo me di questa nostra comunicazione Beh, state facendo come tutte le radio che hanno la radio però devono seguire anche il social giustamente quindi anche quello è importante Esatto, e poi abbiamo anche la collega Marcia Serena che ha un podcast tutto suo di consigli per i genitori perché mai come in questo periodo forse ce n'è bisogno anche di tranquillizzarli su tante novità che ci sono nel bene e nel male nella scuola e che aiuta poi Jacopo nella gestione dei social e aiuta un po' tutte poi noi colleghe con i suoi consigli nonostante voglio dire non sia magari più un collega di classe perché è quella con cui volevamo far partire la radio e poi dopo non abbiamo più lavorato insieme Ci siamo ritrovati Molto bello, noi ovviamente ti ringraziamo perché ci fa molto piacere scoprire che le radio entrino anche nelle scuole e siano anche uno strumento per fare un po' di cultura e per invogliare gli studenti perché poi ci sono anche dei podcast che riguardano tematiche ovviamente scolastiche insomma grazie veramente di cuore complimenti per questo bel progetto e invitiamo tutti a seguirvi Radio Onde Corte basta cercare sia sul sito dell'istituto comprensivo che sui social ci si trova grazie ancora grazie un abbraccio a Paola Rangonini edatrice del progetto Radio Onde Corte qui su Radio Sound Piacenza 24 a Paola Rangonini